Il più cordiale e ben interconnessi giunge a tutti quanti voi da parte mia Roberto De Angelis Studio 1 RDA Radio 1 Buona domenica e naturalmente un saluto a tutto il circuito web radio associate VRA a tutti i canali che sono in simultaneo in questi istanti e a coloro che riprodurranno questo file in differita e sono passate diverse ore, sono le 11.35 di domenica 5 dicembre sono passate diverse ore della sconfitta della Roma nella gara interna all'Olimpico di Roma contro l'Inter e tentiamo di fare un piccolissimo bilancio flash della situazione nel senso che dovremmo trovare giustificazioni, cause, effetti e via discorrendo rimaniamo sempre invece attoniti, rimaniamo sempre invece sballorditi perché qualcuno ieri sera mi ha detto non avete la cultura della sconfitta no, la cultura della sconfitta ce l'abbiamo perché è una partita a tre risultati la vittoria, il pareggio, la sconfitta appunto in questo caso c'è stata la sconfitta però sai che c'è, affronti una corazzata la affronti decentemente e dignitosamente e poi la corazzata estera, volevo dire la corazzata ospite ti batte, ti sconfigge sul campo tanto di cappello, sono superiori gli avversari non si può dire nulla ma la Roma ieri, a parte qualche flash sporatico soprattutto il primo e il secondo tempo molto poco sinceramente non è apparsa in campo il primo gol ieri sera l'avamo attribuito a una papera di Rui Patrizio ripetendola bene è un'indecisione tra Zaniolo e Cristante come al solito perché uno tenta di entrare di testa e va a vuoto l'altro ci vuole mettere la gamba e va a vuoto Rui Patrizio non se l'aspetta e la palla gli passa sotto le gambe ma ci può stare un incidente di percorso dopo però sei la Roma e ti devi riprendere certo con cinque titolari in meno è molto molto difficile allora giochi, vieni battuta sul campo ma giochi con dignità, giochi con onestà giochi con intelligenza, giochi con concentrazione perché se i nostri che scendono in campo già partono con la consapevolezza di essere più deboli degli avversari la partita non c'è, non esiste allora oggi io dico che le responsabilità sono di tutti in quota parte sono della proprietà dei Fred Clean sono di Tiaco Pinto, direttore sportivo general manager che ti si voglia sono di Murigno che tante volte si intersardisce a non utilizzare determinate risorse umane, determinati giocatori che se anche sono scarsi però fanno parte della rosa visto che sei in competizione per il campionato, per la Conference Cup per la Coppa Italia fino a che non arriva gennaio e qualcuno di loro andrà via intanto li potresti utilizzare dice ma vai a utilizzare Fazio? eh, sarà molto difficile Borca Majoral che improvvisamente è diventato lo scarto degli scarti degli attaccanti però noi critichiamo da fuori e forse a volte è molto facile criticare da fuori non sappiamo l'atmosfera che regna a Trigoria, chiaramente io ritengo che dopo la umiliante sconfitta contro l'Inter non regni un'atmosfera serena, poco ma sicuro però adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e di capire dove portare e a portare le opportune correzioni e per quanto riguarda il tecnico ogni tanto, diciamo, uscisse fuori dai suoi puntigli dalle sue prese di posizioni intransigenti qui bisogna remare tutti verso la stessa direzione perché è palese ormai da ieri sera che Napoli, Inter, Milan, Atalanta sono superiori alla Roma nulla da dire non si può dire che la Roma può competere a quei livelli perché ha una formazione mediocre ha una rosa molto corta e ti bastano 3, 4, 5 persone che per vari motivi non ci sono si spengono le ultime lampadine accese rimaste Milan, Inter, Napoli, Atalanta chiaramente anche se eventualmente facessero mediocre figura con le loro, tra virgolette, riserve hanno tutti due squadre in campo addirittura l'Atalanta ha due squadre l'Inter ha due squadre il Napoli ha due squadre il Milan ha due squadre e poi ecco lì stanno sulla vetta della Serie A Milan, Inter, Napoli, Atalanta saranno queste forze a disputarsi i quattro posti però la Roma ci deve provare e ci deve credere come non lo so tocca a Murigno che è un ottimo tecnico non lo considero bollito come ha detto al suo tempo il signor Paolo Di Canio chiaramente è andato avanti negli anni non ha fior fior di campioni nella Roma ci mancherebbe altro però deve recuperare il bandolo della matassa rabbia, delusione, sconforto, amarezza c'è tutto c'è tutto oggi una mortificazione così non la subivamo da tanto e tanto tempo prendiamo fiumi di gol prendiamo fiumi di gol dai dilettanti del Bodo prendiamo fiumi di gol da tutte le parti non l'ho capita questa non c'è stata ieri sera un minimo di reazione costruttiva non è che la reazione non ci sia stata però non è stata costruttiva io a questa Roma non sono abituato anche perché avendo poi una veneranda età quanto tempo devo aspettare per vedere ancora la Roma che potrebbe conquistare uno scudetto una Coppa Italia ti è oppure la Coppa Italia una Conference Cup una Coppa UEFA non lo so sinceramente risale nella notte dei tempi le competizioni internazionali risale nella notte dei tempi la Coppa Italia risale nella notte dei tempi lo scudetto ora basta perché non ce la facciamo più siamo stufi siamo stanchi siamo esausti Roma ti devi svegliare e onore e merito invece ieri a quei 55.000 tifosi giallorossi migliaio più migliaio meno che si sono presi freddo umidità e qualche sfolata di pioggia per vedere questi ragazzi che non hanno né nerbo né grinta e non basta da solo Zaniolo a tentare di perforare a tentare di sfondare le difese avversarie ci vuole la squadra ci vuole lo spirito di squadra che devo essere sincero in certe partite si è visto perché rispetto a Fonseca Morigno uno spirito di squadra l'ha dato alla Roma solo che questi ragazzi vanno in altalena nel senso che fanno una partita decente forse si casano troppo forse questa è un'impressione poi improvvisamente scendono nelle stalle e così non va bene ho risposto ieri sul mio gruppo di RTA Radio 1 a qualcuno che diceva non dovete criticare la Roma ma noi dobbiamo fare i tifosi la dobbiamo solo amare ho capito però i tifosi hanno occhi per vedere fanno abbonamenti alle pay tv oppure ieri sera da zona tra parentesi ogni tanto saltava perché bastano maggiori persone che si connettono e il sito insomma traballa ci sono persone che hanno fatto l'abbonamento allo stadio persone che seguono la Roma in trasferta è vero non ce l'ha detto il medico però la seguiamo con amore perché la nostra fede è incrollabile perché è quella situazione sportiva chiaramente che non ci tradisce mai non è come nell'attualità che ci raccontano una cosa e poi ne fanno un'altra assolutamente la Roma è la nostra salvaguardia la nostra ancora di vita è la nostra ancora di vita sportiva e allora bisogna rimboccarsi le maniche non dico che dovrà essere una squadra stratosferica quest'anno però cerchiamo di far quadrare il cerchio che allora a gennaio oppure che non arrivassero campioni campioni ultranominati campioni fantascientifici arrivasse gente che a cognizione di causa giocatori pure sufficienti distinti buoni che però hanno voglia di giocare hanno fame hanno voglia di giocare per la Roma e non la prendono soltanto come un parcheggio per transitare poi da altre parti ripeto le responsabilità sono in quota parte di tutti allora sta adesso a tutti rimboccarsi le maniche studiare bene i filmati e vedere dove la Roma toppa e poi soprattutto che se i giocatori non riescono ad assimilare un modulo bisogna adattare il modulo ai giocatori che si hanno non i giocatori che si devono adattare al modulo teorico di colui che sta in panchina e questo mi riferisco sia a Fonseca a Murigno a chiunque pure a Eusebio Di Francesco che tante volte insisteva teslartamente ad andare avanti col suo modulo però almeno Eusebio Di Francesco è arrivato quasi in cima alla classifica Eusebio Di Francesco ha portato la Roma alle semifinali di Coppa e se non ce l'avessero scippata andavamo a fare la finale poi magari non vincevamo però a finale ci andavamo quindi Di Francesco esce con più onore oggi come oggi rispetto a Fonseca e parzialmente rispetto all'attuale di Murigno Garzia anche lui esce a testa medio alta però i risultati sono questi poi avevamo una bella Roma mister Pallotta aveva deciso di fare solo business ha smantellato la squadra ora è chiaro che con una rosa così più di questo non si può chiedere però si può chiedere una cosa adesso giocare con dignità giocare con determinazione avere sportivamente parlando un pizzico di cattiveria in più non arrendersi come non lo so come Pappemolli non arrendersi davanti all'evidenza che ti senti inferiore pure che ti senti inferiore devi giocarla la partita questo ci insegnano anche nei campionati minori anche quando si vanno a fare dei corsi di scuola calcio e allora dove è finita la grinta il nervo lo spirito della squadra gialloressa magari perdi pure 3 a 0 per carità ci può stare se gli avversari sono superiori però tu la partita l'hai giocata fino all'ultimo e dobbiamo addirittura ringraziare gli ospiti ieri sera che a un certo punto hanno pensato che martediano la gara di Coppa con Real Madrid e si sono fermati perché altrimenti buchi collassi c'era di tutto ieri sera allora io spero che questa sia l'ultima parentesi completamente negativa le sconfitte potranno continuare ad arrivare però bisogna giocare con dignità e cattiveria sportiva non si può andare avanti così Mourinho non insegna questo Mourinho è un signor allenatore i ragazzi lo devono capire e soprattutto ripeto pure Mourinho dovrebbe avere un atteggiamento leggermente più flessibile verso certe risorse umane della rosa poi a gennaio si cambierà non so quanto si cambierà se si cambierà con chi si cambierà però arriveranno magari altri giocatori forse più motivati più concentrati perché questi ogni tanto sono pure troppo distratti mi fermo qui perché altrimenti vado a fare un comizio elettorale sportivo sono deluso amareggiato e mortificato da questa Roma adesso basta e soprattutto chiedo alla proprietà che acquistasse a gennaio magari pochi ma giocatori dignitosi e positivi per il gioco della Roma basta di prendere gente a 42 milioni e mi riferisco a Schick nella gestione precedente e mi riferisco purtroppo pure a Shomurodov che io vedevo molto molto bene 18 milioni spesi benissimo non è lo Shomurodov visto a Genova questa è la brutta copia e aveva ragione Mourinho quando non lo schierava a titolare aveva perfettamente ragione avevo torto io e tanti altri che la pensavano come me uguale e allora magari adesso diamoci una mossa diamoci una spinta diamo un qualcosa che fa vedere al popolo dei tifosi romanisti che la Roma c'è ancora altrimenti altrimenti vergognatevi perché così non si può continuare a giocare chiedo scusa dello sfogo e dell'amarezza di solito io rimango sempre molto più freddo e molto più distaccato ma stavolta non ce l'ho fatta un ringraziamento a tutti voi vi aspetto al prossimo appuntamento un saluto da Roberto De Angelis grazie a tutti